Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. E ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hatch in scala 1 a 8, edizione Hachette, uscita numero 42. Andiamo subito a dare un'occhiata a quello che abbiamo ricevuto. Per questo, chi avesse piacere di dare anche lettura ai testi, oltre che guardare le immagini, può andare a vedersi il video unboxing, dove dedico più tempo proprio per questa ragione. Troviamo il cerchione posteriore destro, l'ultimo, Poi riceveremo anche la ruota di scorta. Io mi avvalgo di un lubrificante, un lubrificante qualsiasi. All'interno troviamo il cerchione, tutto in metallo. Guardate che bello. La sua valvola. Addirittura hanno riprodotto il tappo. Guardate il cappuccio. Sembra avvitato. Bellissimo. Eccolo lì. Poi, la parte interna del cerchione, tutto in metallo, come anche del resto. Le altre ruote che abbiamo montato. Questo è in plastica, che è il disco. Anzi, in realtà, non è il disco, ma è il coperchio del tamburo del freno. Perché? E' questo qui. Questo poi adesso andremo ad avvitarlo sul cerchione. Ok. Montaggio molto semplice. Riceviamo, oltre che a questi pezzi, anche i bulloni della ruota. Ce ne serviranno cinque. Ce n'è dato uno in più. Una serie di viti PM. Qui ne vedete soltanto una, ma in realtà sono quattro, perché io mi sono già portato avanti e sono andato ad avvitarmele qui. Vi faccio vedere il passaggio per quelli che mi vedono per la prima volta. prendo una sola vite, la bagno appena appena e con la stessa vite mi faccio tutte e tre i filetti. Senza bagnarla più. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Per quelle invece che non si sono iscritte, ma che hanno piacere di farlo. Bene ragazzi, cosa aspettate? Fatelo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Adesso, guardate, le viti di M non le troviamo in questa sessione di montaggio, ma sono quelle che potrete trovare dalle sessioni di montaggio precedenti, perché ne avrete sicuramente in più come anche io. E sono quelle che poi terranno fermo il cerchione unito una volta che metteremo dentro lo pneumatico. Si dice il pneumatico, lo pneumatico, chiamiamolo come vogliamo, la gomma, il copertone. Ok? E sono andato a ricrearmi i filetti con lo stesso metodo che vi ho appena spiegato per le viti PM, queste piccoline e le viti DM, queste più grandi. Va bene? Dove vado a crearmi il filetto? Qui abbiamo cinque fori, tre sporgono. Vedete che c'è il metallo che sporge, ecco. Dove c'è il metallo che sporge, nei tre perni, io vado a crearmi il filetto. A questo punto vado a svitarmi le viti, queste più piccoline. Prendo questo, così, lo inserisco e lo faccio girare finché si inserirà correttamente nei suoi fori dedicati, eccolo qua, perfetto, e avvitiamo. Ricordatevi, mettete prima tutte le viti, poi stringerete alla fine. Avete visto come è più semplice una volta che vi siete creati i filetti? perfetto, controllate solo che non ci sia spazio tra la parte di plastica e quella in metallo e poi siete a posto. A questo punto noi abbiamo finito il montaggio, però visto che io mi sono creato questi vado così, per non avere pezzi sparsi, a mettermi il pezzo di metallo sopra, che poi dovrò smontare nuovamente, ma almeno ho tutto raccolto. ecco qui, così, ovviamente non le stringo, le punterò soltanto, sentite il tac che quando mi giro al contrario il cacciavite, perché mi sono creato il filetto, sentite, vedete? ed ecco fatto, stringo solo questa, così non mi balla, le altre lascio molli lente. ecco qua, così mi sono già creato i filetti, quando arriverà il copertone non dovrò fare altro che svitare le viti, inserirlo e sono a posto. guardate che meraviglia! adesso prendiamo infine i bulloni, li facciamo girare tra il dito pollice e il dito indice, ecco qua, andiamo ad inserirli, è l'unica maniera corretta, il perno più lungo va messo nel foro, e qui chi ha le dita sottili va meglio sicuramente di me, ecco, attenzione perché se vi entrano troppo facilmente con la stessa facilità potreste perderli, quando prendete il modello in mano per poterlo lavorare, fate attenzione. non usate pinze per inserirli perché rischiate di rovinare la cromatura sopra. curate i dettagli ragazzi, il bullone deve essere completamente inserito, imbattuta, non soltanto messo nel foro e basta. eccolo qua. questo dovrebbe andare ancora più in giù. va bene, questo me lo curo dopo io, per non fare il video ulteriormente più lungo. vedete? vedete? questi sono tutti inseriti bene, questo è un po' alzato, lo andrò poi a mettere correttamente bene. ok, adesso prima di salutarci, che bel ciclo detto, metto, anzi non metto pausa, prendo direttamente il modello, un attimo, così andiamo a prendere tutto quello che abbiamo montato fino a questa uscita che è la 42, ricordo che sono 120 uscite. e qui la polvere soltanto nell'aria sul nero si vede subito. bellissima, il lampeggiante, eccolo qua, il tamburo posteriore. così una volta che metteremo anche l'ultima ruota posteriore destra tutto sarà più stabile, ma più pesante. avete visto che superiamo i 4 kg di peso? questo modello arriverà probabilmente a 6 kg, ma di più, secondo me anche a 7 kg, ma almeno a 7 kg. consideriamo che ci manca ancora tutta la scocca esterna, il cofano anteriore, il baule posteriore, le portiere. avete visto? solo qui siamo quasi a 5 kg, andate a guardare il filmato, il video precedente, così vi potrete levare una curiosità piacevole. a me piace dare tutte le informazioni possibili, per questa ragione i miei video durano anche di più di tanti altri che fanno la stessa cosa che faccio io, semplicemente perché a me piace far vedere tutto. poi ci sono quelli che vanno avanti veloci, mi scrivono in privato, Michele dove va questo, dove va quello, e io so di averlo detto nel video e capisco che questi carissimi iscritti sono andati avanti veloci perché si annoiano. ragazzi, figuratevi io che devo spiegare tutto e che lo faccio sì con passione e quando mi accorgo che invece tutto questo viene preso come un qualcosa che stufa, a me dispiace, dispiace, perché dire metto la vita qui, metto la gomma lì, non ci vuole nulla, andare a spiegare invece quale potrebbe essere la problematica e quindi risolvere un problema ed aiutare quelli che hanno meno dimestichezza con i modelli è un'altra cosa. ecco, io ho scelto di fare questo. Tutto qui. Ringrazio voi del vostro tempo, grazie ragazzi, grazie di seguirmi, adesso vado a preparare altri due video della Lancia Stratos, quindi un altro modello, sempre in scala 1 a 8 Livrea all'Italia, numero 10 come numero di gara, con il grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Dovete scusarmi che mi incespico un po', ma ho fatto già tanti video oggi, quindi devo farne ancora poi uno di Robocop. ho la bocca un po' così. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao!